Poche parole è stato semplicissimo perché, come appena detto, arriviamo da Germania, quindi con Taylor siamo riusciti in una visita di cinque giorni a dicembre e con un'altra visita dei cinque giorni d'abrile a organizzare un matrimonio e uno magari non ci vuole credere che in dieci giorni siamo riusciti a organizzare un matrimonio a distanza. Il giorno del matrimonio abbiamo visto il frutto di questi dieci giorni che è stato tutto quello che abbiamo sognato da sempre e quindi abbiamo dato fiducia delle persone giuste.